E bella a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video Come potete vedere oggi siamo qui nuovamente con la signorina Giorgina Saluta, saluta le certi Ciao ragazzi, ciao a tutti Allora, la cosa divertente è che in realtà tu non sai perché sei qua Infatti ho tanta paura però Hai tanta paura, perché tanta paura? Ma perché di solito quando mi porti qua poi mi fai fare delle sfide Non devi preoccuparti, oggi sono qui per farti, per proporti una cosa di molto interessante Sentiamo la stronzata Che loro in realtà sanno cosa sto per andare a fare ma tu non lo sai Fondamentalmente la sfida che andremo a fare oggi è molto semplice Oddio, forse per te un po' meno quindi dovresti un pochettino preoccuparti Ti piacciono le mie periferiche? No, nel senso sono belle ma non le uso, non le so usare Ok, la mia postazione ti piace? Oh sì, comunque sì dai Ok, oggi giocherai a Fortnite dalla mia postazione con le mie periferiche No, no, mi rifiuto No Dai, c'hai un mouse che cristo dia leggerissimo C'è una tastiera diversa, non riesco a fare niente Non mi interessa Oggi tu giocherai con le mie periferiche dalla mia postazione Però tranquilla ho pensato anche a un qualcosa Diciamo che possa ripagare questo sforzo Vedi che qua c'è un bel portafoglio? Non lo regali? No Ragazzi, questo perché come avete visto dal titolo Andrò a fare una sfida per la signorina Giorgina Andiamo a prendere un po' di soldini Guarda quanti bei soldini Facciamo vedere anche qui in caso pensano che siano finti Sono più di 1000 euro E tu dirai Eh, cazzo Che cosa devo fare con questi 1000 euro? Ogni kill che riuscirai a fare dalla mia postazione Io ti darò 50 euro Davvero? Assolutamente sì Come premio Se dovesse Giorgia riuscire a fare anche una vittoria reale Come bonus le andrò a dare i 100 euro Ecco perché l'altro giorno hai prelevato tutti Non capivo Ho prelevato proprio perché avevo già in programma di fare questo video con te Mi piace Ti piace? Ma 50 euro bonus inizio? No, 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 nessun 50 euro bonus però Piccolo assaggino ad ora Ok, perfetto Oh, che buoni cash! Quindi niente ragazzi Oggi questa è la sfida che andiamo a fare Ogni kill che... Allora ragazzi si sta dilungando troppo Quindi se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Lasciate tanti pollicioni in su per questi video Che ci piacciono tanto Soprattutto alla sottoscritta E lasciatene tanti tanti così lo rifacciamo Con magari più soldini Mi raccomando commentate Proponendo altre sfide per la signora Martina In descrizione trovate tutti i suoi social Ovviamente anche i miei Perché io ci sto in live tutti i giorni Sul canale Viola Tra le 16 e 17 Bene Quindi sei pronta per vincere un po' di cash? Sì Fammi giocare Ora andiamo a fare un piccolo switch Magia Ok switch effettuato Signorina vada pure su Fortnite Logga col tuo account E preparate a vincere un po' di cash Tante kill Tante kill Switchiamo Oh boschetto eh Rapidissimo proprio Ah proprio come primo land così? Sì 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 Primo land Ma di la verità Di la verità Che vuoi questi bellissimi cash Guarda Seguili Seguili Ehi No dai Devi giocare Devi giocare e concentrarti Oh c'è gente C'è people 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 Ce ne sono tantissimi Ce ne sono tantissimi Magari prendiamo la pistola Oh Ciccione Non toccarli troppo 50 euro ragazzi Persi per me Guadagnati per Giorgia Allora Vogliamo dell'azione qua ok Qua c'è un player Attenzione qui Giorgia Si è vicino nella preda Come non mai Attenzione Si mette Stray Attenzione Lo avete Bianco Lo cracca Adesso Si va Si va Si va Si va E si prende E si prende Un altro cinquantone Give me please Give me please E 100 euro Ci ripartiamo a casa One hundred Così in English Te lo dico One hundred Portata a casa Stillato 100 euro ragazzi Ha già vinto 100 euro Neanche nel giro di un minuto Oh un player Questo è un bot Si vede È un bot vai Eh vabbè ho capito Ma sono bottati Vabbè Fai dietro Attenzione Attenzione No 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 Lo fa Lo invest No ma in che senso Ma perché non l'ha preso Eh perché era sopra Era più alto Voglio Devo un attimo La tregua La tregua La tregua Perché se no perdo Perché se no perdo Devo recuperare anche lo scudo Esatto E quello Mi sto accontanando Perché lo scudo Mi sta attaccando L'hai recuperato l'uscita Sì 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 ma un attimo Dammi il tempo Guarda come vuole andare Sei per guadagnare Ti so di pensiero Ti pare che sia Beh intanto Non perdiamo tempo Signorina Giorgia Manteniamo le promesse Se c'è la vista Nella montagna Altri cinquanta euro Altri cinquantone Oh ti puscio questo Lo incazzatissimo Sezione Vodi Lo vinca Lo vinca No Incazzatissima Giorgia No no Sono troppo forte ormai Sono troppo forte Niente Mettiti a riparo Certo certo Vado a mettermi in riparo Subito Ragazzi Vai intanto dammi cash Dammi cash Questo mi fa andare Voglio altro cash Quanto sono? 200? Sei già a 200 euro Brutta stronzona Ah io sono già Sono praticamente già contenta così Dove l'hai visto? Io l'avevo vista Ehi no Per è tuo È tuo È tuo Sezione Ci sono Mamma mia Il bottazzo Che mi fa guadagnare Cinquanta euro Frate Ma grazie mille Ci sono altri piedi Ci sono altri piedi Dammi cash Ci sono altri piedi Ragazzi Ci sono altri piedi Siamo a cinque kill 250 euro guadagnati Per Giorgia Ti tira le nade Sul tetto Sezione 4-4-19 Impulsa? Così cattiva? Cazzo! E resiste! Avevi quasi morta! Sì! Avevi quasi morta? Eri quasi morta Eri quasi morta Ah! Ma sbagliato! Intanto ragazzi Altro centone per queen? No 50 No centone E altro scusate 59 Questa vuoi cento euro Ma ti svegli? Cioè 6 kill 300 euro 300 euro Che ho perso Ragazzi 300 euro Come ti senti ad aver perso Tanti soldi? Così? Cioè ti devi sentire Veramente distrutta emotivamente Cioè nel senso Sono depressa Comunque Per sua informazione Una rana Mi ha fatto spaventare Comunque Siamo a 20 player C'è una macchina Una Lambo Attenzione Attenzione L'ho prendito in Giorgia Sulla macchina grigia Aia Devi usare l'impulso Come sta Ok Cazzo Ok Meno male Dritta nel buco Si vede che si è abituata Comunque Oh Allora Shieldino subito Appena poi Fida di me Ragazzi Potrebbe morire Cosa che io In realtà Ci spererei Però Vediamo un po' Hai l'impulso 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 Vattene Io non dovrei neanche aiutarla Ragazzi Però mi sento di aiutarla Perché mi dispiacerebbe troppo Shieldina Però puoi E sei nel chilling Signorina C'è una cosa intelligente Fidati di me Faremo una tecnica Una tecnica molto importante Che si chiama Nei momenti In cui c'è da fugare Si fuga Ma perché hai fatto le splash Potevi farti lo spray E portati le splash No perché avevo anche 99 di shield E mi dava quarto E lui E lui mi sa Attenzione Così Hai avuto Cullo Che era veramente Bianchissimo Si L'ho craccato io Più Aveva la vita white Godo come riccio Centone Centone Cinquantone Tre ti hai fatto Per ucciderlo Cinquantone Cinquantone È inutile che ti la mente Che stai rosicando Perché sono la più forte Qui Della gang Dammi cinquantone Quanto siamo Quanto Mamma mia Dopo cacciamo il conto Del bottino Sette kill Quindi dovrebbero essere Trecentocinquanta No Mamma mia Così Si raga Ma è vero che con questi soldi Quei mi compri tipo delle Jordan Qualcone Una cenetta romantica Stai scherzando Ragazzi Cioè non mi offre un cazzo Non mi offre niente È veramente Veramente È una persona perfida Basta Non ho parole Qua c'è qualcuno Sì ovvio Potrebbe essere sul tetto Attento a guardarti bene Di mettere le Bravissime Sì L'ha avvisato Lo dinka Più un body Lo pusherà Giorgia O farà la campionata Sul tetto Campionata sul tetto Sempre comunque Io leverei lo spray E prenderei il barile Sì Beh sì direi Poi in pubblica Tanta roba Questo qua C'è la Jordan Cerca la preda Che cacchio È sotto Non lo so Sono solo che Ho tanta paura di morire Nel dubbio rimani sopra E fregatene Ma questo Prende le gravi Il jetpack Ah quindi è in pubblica Il jetpack Ti scarica Sono troppo forte Dammi gli altri soldi Ma il jetpack io non lo sapevo E neanche io le sapevo De resistenza Ragazzi ma da quando c'è il jetpack Io non avevo idea Neanche io lo sapevo Infatti mi sono spaventato Ho detto adesso questo cosa mi fa Invece Cinquantone Forza Io per me Io sono già contenta così comunque Sento spari Vedo spari Però devo stare sempre attenta Perché siamo comunque in otto Eccolo Passi Pedini Pedini Eccolo Caccione Caccione Eh sono troppo forte Ivan Ci sono Ivan Forza forza Mi devo curare Anzi facciamo Brava Ottima scelta Intanto Andiamo a fare ragazzi Mi stai facendo sbancare Ma si è rotto le palle Eh ho capito Ma se Cioè divento forte Prego Prego Quando ci sono soldi in palio Dove E lì sotto A sinistra In open proprio Vai Georgina Eh ho capito Che c'è lui la migliore Adesso c'è il pick Piggiore Ok 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 No Ho sbagliato Non dovevo sparare Dovevo andare sul tetto Della casa E non Sparare in open Però 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 Nel dubbio È scindato dalla lobby Usciamo subito Allora Nel dubbio Io qua Un bel gruzzoletto L'ho portata a casa Conto un po' Conto Fai vedere quanti soldi Allora Eh scusa Non sbattere sul microfono Mi raccomando Allora 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Euro Io direi che Possa andare 450 euro Diciamo che è un numero un po' particolare Solamente perché Hai giocato dalla mia postazione E hai giocato molto bene Un 50 euro di bonus Così arrivi a 500 tondi Ragazzi E facciamo questa ragazza felice Prego Vai Vi fai altre sfide di questo tipo No Ora però Magia di nuovo Bene ragazzi Siamo giunti Al termine di questo video E purtroppo ragazzi Abbiamo perso 500 euro Perché li ha vinti Però Devo dire che se li hai meritata Perché comunque Essendo che ha giocato dalla mia postazione Con le mie periferiche Che il monitor si vedeva anche poco Per via dell'asse del microfono Devo dire che è stata molto brava Quindi 500 euro meritati Con il 50 di bonus Perché ragazzi Noi siamo generosi Posso fare una cosa? Vai Hai presente l'imot di Fortnite? Devo ti prego Detto ciò ragazzi Mi raccomando Se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale E fate sapere qui sotto nei commenti Se volete altri video di questo genere O comunque radici delle idee Su qualcosa che potremmo fare Sempre insieme Detto ciò ragazzi Dalla vostra Cratomist è tutto Purtroppo Un pochino Meno ricca rispetto al solito Visto che qua Se l'è beccata Ma va bene così Noi ci becchiamo in un prossimo video Da Cratomist e Giorgia E tutto Bella a tutti ragazzi Raga Mi porto via anche questi Oh che cazzo fai? Raga Raga Raga